C'è una parola in coreano. Inyan. Significa provvidenza. O destino. E tu ci credi? È solo una cosa che dicono i coreani per sedurre qualcuno. È una storia bellissima. Due fidanzatini che si ritrovano dopo vent'anni e scoprono di essere fatti l'uno per l'altra. Mentre io sarei il malvagio marito americano bianco che ostacola il destino. Finiscila. Era un ragazzino che ho avuto in testa per tanto tempo. Forse mi è solo mancato. Anche tu a lui? Heeson! Wow, doda! Wow, wow. 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 In the way you move Makes me feel like I can't live without you in Oga 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 Si è fatto 13 ore di volo per venire Non ti dirò di non vederlo Non posso Se due sconosciuti Si incrociano per strada E i loro vestiti Inavvertitamente si sfiorano Significa che ci sono stati 8000 strati di Lin Yang Tra di loro